La proiezione di intelligenza artificiale 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 E Kubrick ha avuto la visione di fusing questa aneddota in importante con il Pinocchio di Carlo Caloni per produrre una storia scientifica di scientifico di moderno e futuristico. Ma come produrre la storia? Perché l'aneddota originale era piccola, e il film è lungo, cosa stai facendo? Quello non funzioni, se vuoi farlo fuori. Lo sentite? E perché questo non si può portare più avanti così. Posso parlare forte? Anche io posso parlare forte. Ah, va bene. Grazie. Il bello della diretta. Allora, scusate, bello della diretta. Prego. Sì, ora abbiamo un piccolo aneddota. Quindi abbiamo un piccolo aneddoto. Ma un film è così lungo. Quindi come facciamo sviluppare l'aneddoto nel film? Quindi come facciamo sviluppare l'aneddoto nel film? Quindi Kubrick ha provato diverse volte con diversi autori di sviluppare questo film. Alcune volte si è interrotto fino a cinque anni perché in effetti era molto paziente. per esempio quando ha visto il film Jurassic Park, ha deciso di aspettare altri dieci anni perché gli effetti speciali che aveva visto Jurassic Park potessero sviluppare. abbastanza da permettere di fare un ruolo artificiale credibile. In effetti poi l'animazione digitale ha un ruolo molto marginale nel film. Due anni dopo che la sua collaborazione con Kubrick ha ordinato in California la costruzione di un vero robot bambino nel costo di milioni di dollari. Quindi si è arrivato in England. Kubrick vivò in England tutto il tempo. Perché lui ha piaciuto vivere in England. E anche lui non avrebbe voluto in un aeroporto di niente. Perché lui aveva una licenza di Kylons. E lui mi ha detto che lui sapeva che è vero per voluto. Quindi lui voleva farsi spedire questo robot bambino in Inghilterra perché lui non amava volare. E viveva in Inghilterra e non amava volare verso l'America visto che lui avendo una licenza da pilota sapeva quanto era pericoloso volare. E quando finalmente vede il robot bambino disse non mi piace. Bye bye robot boy. Allora questo succedeva tutte le volte quando Kubrick stava facendo il film Full Metal Jacket a proposito del Vietnam. Si è fatto spedire via nave un'intera giungla vietnamese di plastica. Ah, vietnamese. Sì. Quindi si è fatto spedire via nave un'intera giungla vietnamese di plastica. E quindi a lui finalmente dopo che è stato messo nello studio, e lui finalmente ci camminò in mezzo e disse non mi piace, mettete la via. Questo spiega come mai nel nord dell'Inghilterra ci sono molti alberi di plastica vietnamese. E una volta Stanley ti ha chiesto sai qual è l'arte più grande nel fare un film? E io ho detto no Stanley. Cosa è? No Stanley. Che cos'è? E lui rispose è comprare cose. Quindi doveva anche comprare degli scrittori. dopo aver comprato due o tre scrittori che morirono di estimazione. E poi mi ha comprato. Ha comprato a lui. Ha comprato a me. Però ho riferito a lui. È il problema del traduttore. E tuttavia lui ha posto delle condizioni. Lui era anche il sindacalista. Il sindacalismo, sì. E lui accettò anche se poi io occasionalmente cercò di farlo lavorare tutto il giorno anche nel weekend. Ma lui rifiutò in quel modo dove piscina sopravvivere. E lui è riuscito a sopravvivere perché non ha mai creduto che ci sarebbe effettivamente stato un film. E lui era convinto di venire pagato per lavorare. Lavorare nella nursery room. In my room. Come diventa. Si alzzi nella sala di camera gioco di un bambino. E quindi non si è preoccupato. del bonus che gli era stato promesso se fosse riuscito a mettere insieme il film. Quindi lui ha considerato l'esperienza come una comedia surrealista. E quindi è avvenuta una storia. E alla fine quando ha finito di scrivere la storia Stanley gli disse non mi piace abbastanza. Tuttavia gli ha tributato con grande odore telefonandogli per dirgli arrivederci perché in effetti non telefonava mai a nessun altro. il film ha fatto la storia che l'ha scritto per di continuare. Tre mesi dopo ti è vado a sfumato di nuovo. Ihan, this is Stanley. Ihan, questo è il nuovo Stanley. Do you remember that story you wrote? Di ricordi la storia che hai scritto? Yeah, I remember it Stanley. Io me la ricordo Stanley. l'ho persa quindi lui è stato riassunto a 3.000 dollari la settimana per ricostruire la storia per lui fa molto facile visto che ce l'aveva sul dischetto e a un certo punto Stanley ha detto questa è una delle grandi storie del mondo io però potrei lavorare a giocarci un po' sopra è trascorso un anno e Stanley lo chiamò di nuovo ha perso di nuovo la storia e dopo un po' Stanley pensò che aveva bisogno di soldi e quindi fece il film e infortunatamente ha lavorato troppo e morì la buona notizia è che morì mentre dormiva e questa è una buona notizia perché si preoccupava molto della morte quindi non si sarà all'esopunto che stava morendo quindi dopo questa situazione Spielberg decise di fare il film come un tributo a Kubrick che era suo amico Kubrick aveva parlato con Spielberg a telefono per molti anni e in effetti Kubrick aveva chiesto a Spielberg di essere regista del film ma Spielberg non aveva tempo la ragione per questo è che i film di Stanley tendono a essere bellissime macchine cinematografica la ragione di questo era che i suoi film di Kubrick potevano essere dei capolavori tecnici per quello che riguarda tutti gli elementi tutta la fotografia il ritmo, il montaggio eccetera però tendevano a essere più freddi emozionalmente mentre nel cinema Spielberg è più un maestro delle emozioni quindi dopo la morte di Kubrick quindi dopo la morte di Kubrick Spielberg fece il film utilizzando le tecniche di Kubrick quindi cercando di fare il film il più possibile identico a come Kubrick l'ho avrebbe fatto quindi, per esempio la fine di 20 minuti della film i critici chiedono che questo è Spieberg di essere sentimentale no, no, no questo è proprio quello che ho scritto per Kubrick e proprio quello che he chiesto è stato filmato da Spieberg e non è sentimentale, è molto tracciato. Infatti i miei punti critiche che sostengono che gli ultimi 20 minuti sono tutto Spielberg, sentimentalistico in un modo che Kubrick non avrebbe fatto in realtà questo è esattamente quello che lui scrisse per Kubrick che Spielberg ha rappresentato per il seguimento. Voglio lasciare le persone chiedere le domande, perché posso continuare a parlare, come un robot, ma spesso le persone hanno cose che vogliono chiedere che non potrei pensare. Quindi sarà il caso di dare la sua voce le domande perché lui è in grado di parlare perpetuamente. Ma ci sono persone che magari hanno domande specifiche potremmeno procedere con questo. L'idea che sia lì e il punto di vista oppure è stato preso il punto di vista dell'idea. C'è lì? 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 di quella storia breve, per esempio, odiava l'idea del Pinocchio, quindi qui si vede già la grande differenza, comunque io volevo fare un Pinocchio moderno. L'idea di un Pinocchio moderno, turistico, era lo stesso del pubblico. Sì, 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 sì. È molto forte, sì. Sì, sì, mi accadevo! E questa è l'industria dell'allineamento. Sì, e l'entrazione dell'allineamento. E anche il tuo gusto di un anno. ho rivisto oggi il film e sin dalla prima volta che l'ho visto per me la scena dell'abbandono nel bosco è la scena più triste che abbiamo visto in un film è un punto, per me è un punto massimo nella storia del cinema e l'articulazione della tragedia e sinceramente di chi è l'opzione di pubblico di prima ma la scena la scena dell'abbandono è una scena che è una scena più tragica che ha visto Grazie a tutti. E Stampley ha detto a me... Il Rubrik aveva c'è intenzione di abbandonare il bambino. La domanda era che cosa puoi fare con il bambino color sacchiotto e allora Rubrik gli disse. E allora Rubrik ha detto non arriveremo da nessuna parte se qualcuno non aiuta e il bambino non lo sacchiotto. Dall'attivamente. Allora, dopo queste domande e queste curiosità sul film così a ruota libera, vorrei presentare Pierluigi Manieri, editore Lara, editore di Ian Watson, il giornalista critico cinematografio che è un peggio in Cimagnetti. Buonasera. 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 Grazie. Buonasera. 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 Grazie. Buonasera. 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 Io ti dirivo qualcosa sull'intelligenza artificiale, siccome è vicino a una personalità come i vostri, qualcosa di tutti quelli che fanno il mio mestiere, non poi si augurano di migliorare per me una volta, ma che sta capitando oggi, è tutto il momento di cercare, soprattutto con le qualità di capire, di qualche curiosità che spero possa appassionare bene con tutti voi che siete qui in sala, e anzi complimenti, perché insomma il mio obiettivo ne valeva niente, insomma d'accordo. Allora, first of all, I'd like to know, almost 10 years... E' una domanda in italiano? Sì, allora, dopo... Quasi diciamo che non c'era, dopo quasi 10 anni da... ...data di ricenza che non c'era. E cosa è normale? Quello che hai fatto è che c'è un conto interdisciplinare che dai comuni generati, come l'imbri di Speerberg e lui del... What's in it? ma si è spinto che e, diciamo, i cari diritti continuano a ricevere soldi. Ma è contento che le persone continuino a guardare film, trovando sempre nuove cose. C'è un po' di critica a capirla. È stato, prima di tutto, più più popolare tra i giapponesi housewives, perché... Inizialmente erano un po' l'astra, le casaliche giapponesi. Perché, continuando con quello che hai chiesto, quando erano in wood e Stanley disse a me che hanno bisogno di qualcuno per aiutare, ha continuato a dire che hanno bisogno di un G.I. Joe. un G.I. Joe è un soldato, un G.I. un G.I. Joe è un soldato, un G.I. Joe è un soldato, un G.I. Joe. Un G.I. Joe è un soldato. Un G.I. Joe è un soldato. E allora lui è smesso rilanciato a Stanley e allora perché non un G.I. Joe? Un soldato. Quindi Stanley ha detto, va bene, scrivi qualche scena. E allora quando cubriva la letta ho detto, beh, ci siamo giocati al mercato dei ragazzini, ma chi se ne frega. Ed è per questo che i casalini giapponesi inizialmente ad andare in grandi quantità a vedere film, tre, quattro, cinque volte, e si diceci un sacco di soldi. Già lui, è del personaggio del psicologo. Che era proprio... Che era proprio... Ecco, prima della lavorazione proprio del film ci erano anni di conversazioni, di spianti di uno, tra tutti e tre. Ma come siete riusciti a lavorare nel film? Nel senso che poi, dal film alla fine, per esempio, uno di stagisti e due spin back è anche andato verso il pubblico, oppure spin back alla fine è riuscito a fare due film personale. Ma come uno, più biasano di spiegelare in qualche modo, oppure spin back all the time. Grazie a tutti. 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 Poi è morto e quando hanno fatto il film, il compositore che ha fatto la musica ha dovuto eseguire questa annotazione senza sapere il perché. Quindi lui è responsabile di quella musica lì. Questa è la prima volta in assoluto che lui dice alcuna cosa del genere. E' un'altra parte di spessi in un posto pubblico, grazie a tutti. E' un'altra parte di spessi in un posto pubblico. La sua idea di spessi in un posto pubblico. E' un'altra parte di spessi in un posto pubblico. E' un'altra parte di spessi in un posto pubblico. E' un'altra parte di spessi in un posto pubblico. E' un'altra parte di spessi in un posto pubblico. E' un'altra parte di spessi in un posto pubblico. E' un'altra parte di spessi in un posto pubblico. E' un'altra parte di spessi in un posto pubblico. E' un'altra parte di spessi in un posto pubblico. E' un'altra parte di spessi in un posto pubblico. si parte dall'immagine di 3 milioni di euro no proprio c'è un bicchiere allora io ne posso dire questo inizialmente per capire l'idea se Superman anziché abitare a New York abitasse a Catania che veramente non si chiama Superman un altro no che cosa penserebbe? a Catania e in Sicilia a Catania e in Sicilia ma vanno in America e in tutto il mondo va in America e in tutto il mondo ma lui abita qua a bere il cassia al bar ma lui è il superman è il superman è il più antico di Superman è stato nel passato e nel presente il passato e nel futuro tutto il resto poi me lo racconterò io ho visto un sacco di criptoline che c'è sulle spiagge che è un'altra domanda è un'altra domanda è lei in questo lavoro, è costruire la storia, è stato libero oppure l'influenza di questi due registi è stato un po' un lavoro più duro e quali sono i due registi che sono preparati in gioco, oppure è stato libero e quali sono i due registi che sono preparati in gioco? o a culturale, ovviamente sul amore ok, io non ho mai parlato con Spielberg ma allora volevo insegnare di fare con Spielberg Spielberg anche tutto no, no, no no, no niente non e Spielberg non ha chiamato perché non aveva bisogno di lui perché voleva lui ha preso la sua storia perfetta, pronta, per fare la propria sceneggiatura perché sperava di vincere l'Oscar e visto che la sua precedente nominò l'Oscar era per i film di Tino. Con Kubrick ho avuto molta libertà per circa 48 ore ogni volta. Con Spielberg lui ha avuto un sacco di libertà per circa 41 ore, nel senso ogni volta... Per esempio, lui a un certo punto diceva a Kubrick, forse dovremmo dare un'occhiata ai quadri di Max Ernst. Quindi a questo punto lui mandava la sua assistente all'oltre a comprare tutti i libri esistenti per riguardo a Max Ernst. Quindi a questo punto lui si dava un'occhiata a tutti questi libri, scrive le cose dopo 48 ore e Kubrick diceva, è giusto come avessi fatto solo di una donna in un vaso di piante. Non so cosa voglia dire, questa è una nota del traduttore, è dimentica la voce, quindi... Quindi gli permetteva di seguire qualsiasi idea. Perché non sapeva cosa voleva. Perché non sapeva cosa voleva. Perché non sapeva cosa voleva. Era la sua missione come, diciamo, compagno di giochi, di scoprire, di psichiatra, di capire che cosa lui volesse. Perché la prima volta che ha incontrato Kubrick lui ha detto, ho bisogno di dare birra. per lui. He said to me, will it interfere with your thought processes. Questo avrà delle ricadute con il tuo processo di pensiero. E lui ha risposto, no, è essenziale per i miei processi di pensiero. E quindi, dopo di che, ecco, birra per lui. Il scrittore precedente, che era stato assoluto da Kubrick per, lui aveva nascosto dentro il bar della stazione vicino a una bottiglia di whisky per cui bere di nascosto. fino a quando era stato scoperto dall'autista di Kubrick. No, so, you tell Stanley what you want, and you get it. If you are scared, then you fail. If you are scared, then you fail. E' stato un po' di rinnovazione che è una macchina, che nel momento in cui viene inattivata una macchina, che non svolgono le direi. cioè non c'è, essendo che non c'è un punto di vista artificiale che questo spirito è una frustrazione che non è più che la via la procedura di disegno di legare a altri fili di un nuovo rapporto di credere, non è più assolutivo di una ragione normale quando questo cammino si sfugge a te ma poi non sono più evoluti o sono messo a te per la mia è quello che vuole ma non si capisce non si sa un po' perché è un po' che è tutto un po' ma non rimarca per il loro momento che è successo perché il mondo della sua avianza di quello che è nasce di essere umani è il fatto che tu non è proprio questo tu sei prezioso per il nome e almeno il giorno non è di andare a sé nel verificio perché è il maestro che non si può portare a te non mi possono lavorare a parte di un livello di controllo e non mi manda inserciare perché i quali erano i suoi giorni di atteggiare le domande la stessa e che non lo vettiamo non lo vettiamo non lo vettiamo la stessa la stessa la stessa la stessa la stessa è il fatto e che si stanno iniziando a fare le sensazioni, e che si stanno in un'intervista. Questo è il essenziale di dramma. Se tu ti racconti la storia ancora, ma tu ti aspetta la question, che è il caso dell'unico, se le characters sono i aliens o i locals? In 2001, con Hal, hai l'alzheimer del robot. Ma in AI non lo puoi spiegare. Sperto, hai l'alzheimer del robot. Sperto, hai l'alzheimer del robot. Sperto, hai l'alzheimer del robot. Having the robots of the future, 2000 years ahead, ressembled the aliens in E3, E3. Spindereck ha fatto un piccolo errore nel rappresentare i robot del futuro con una cronografia simile a quella dei taglieri di E3, perché quelli in effetti erano robot. E io no. Penso che non sono gli altri, ciò che c'entra il taglieri adesso. Ma quale è l'idea del nostro? Quando si collega, quando lo toccano, non è talmente che si accendono, no? Sì, però superficialmente c'è... Possono anche essere chi hanno un software dentro. E' sempre... Ma lui che in Italia, ha detto che i miei simili erano robot del meccanismo. Ma è vero. Sì, sì. Ma se io faccio a fine, se io faccio a fine, potrei restare per i miei simili. Assolutamente. Assolutamente. Oh sì. Il tema che ci sono domani, il tuo più, tanto ci sono i miei simili in realtà, e per capire che il mondo del pubblico fosse molto migliore per tempo per lavorare, perché il più crescento del pubblico, come la sua precedente esperienza con Fina Fina Fina, non si può essere nevarato in modo quasi... assolutamente, 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 assolutamente. E questo è la prima cosa che c'è un pubblico sul basso. Sì. Sì. Grazie. 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 Pensa che probabilmente lui considerasse Arthur Clarke come una sorta di robot dell'astronautica. In effetti, lui che era incapace di emozionare, dopo tutto, ha trovato l'amore della sua vita, l'ha sposata mentre Clarke si è sposata e poi ha rimediato sul per l'errore. C'è l'immagine di questo. Artista genito che in pubblico si è guadagnato, ma poi c'è anche il livello del nuovo caldo con la famiglia che ha. Invece per quanto riguarda il cast di Vincenzo Luciani, lui ha trovato la scelta, era ancora un po' di scelta e secondo lui qualche attore verrà ancora un po' di robot. E il ruolo più importante era quella del bambino e la sua capacità di non... che gli permetteva di rappresentare un'altra persona che non è completamente reale. se quello era un lavoro principale, qualsiasi altro tuo lavoro, può essere infetti solo per cambiare un po' di operare. anche il gigolo a me ha ragione, non poteva venire sostituito da nessun altro. e una cosa meravigliosa che Spielberg ha fatto, era di restituire il gigolo al gigolo del nascimento. in tutto il fascino dell'eloquenza, non dovrebbe aver parlato così tanto. No, Stemmiel ha amato Gimeno Joe, ma sempre ha detto che non sia più semplice. 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 continuava a metterci cose come qui, per il gigolo al Gimono. no, non stiamo giocando. diciamo che non stiamo giocando. grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 If Kubrick did not die, he would still be working on the film. If Kubrick did not die, he would still be working on the film. 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 film. Where he would still be working on the He would still be working on the film. Grazie a tutti. Grazie a Grande Toscana abbiamo abbassato il volume dei giocatori. Grazie a tutti. 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 quindi nell'altro caso in parte la città tecnologica impara a non crescere e rimanere ecologica oppure i cinesi raggiungono la fascia degli esteroidi e portano la tecnologia e i consumi alle stelle in un caso avremo la fantascienza avremo piccoli gruppi di ribelli radicali, nostaldici e di nascosto che leggeranno la letteratura proibita alla fantascienza perché sarà pietato immaginare storie che presumono lo film e nell'altro caso invece sarà tutto scritto comunque in cinesi non c'è un primo o niente veramente grazie 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 Sì, non dovremmo chiedere qualcosa per il pubblico. Sì, non dovremmo chiedere per il pubblico. La mia domanda è il titolo di uno dei miei libri, in italiano. La mia domanda. La leggere. Sì, ok. La cosa importante nella esperienza di pubblico per me era essere più attenti con quello che scrivo. L'hollywood. Perché il pubblico è un'unica in voglio avere una storia logica prima che iniziano a fare il film. In hollywood, iniziano a fare il film e poi scrivono la storia che è stupida. E molti scrittori hanno iniziato a scrivere... cosa succederebbe. Non ho pensato cosa succederebbe. Ma il pubblico mi ha fatto molto più logico nel cercare dei defecti basi in quello che scrivo. Dall'esperienza in generale ci sono scoperto con un po' un po' un raggio che era possessionato dalla necessità della storia di avere una logica perfetta prima o poi trasformarsi in film. Ogni giorno iniziano a fare il film e poi pensano alla logica che spesso infatti è miserica. e quindi lui va a concentrarsi molto sulla toerenza logica delle cose che scrive. Questo è il suo libro preciso appena pubblicato, e tutti i presenti possono agilmente acquistare quell'esterno in questa unica occasione, con la firma del maestro. Grazie. Voi sono permittano a comprare questo libro, ma vorrei mostrarlo a voi, solo per te tormentare. Questo è il libro che mi chiede in inglese, che si chiede in inglese, che si chiede... ... 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